Meno uno al DocFest, uno degli eventi più importanti attesi per la città di Gubbio, che anche quest'anno riesce a fondere insieme musica, cultura, arte, natura, sport e non solo, in un'edizione più ricca che mai. Si parte il 18 di agosto con la musica a scheggia e il concerto preview delle cose di Giulie e i boschi bruciano, i gruppi vincitori del Gubstock Rock Festival, che si esibiranno in piazza Luceoli alle 21.30. Il 19 spazio alla poesia con il monologo di Joel Dima e alla danza con la performance della Scuola Dance Art, che inaugureranno la mostra Connessioni della pittrice eugubina Cristina Cipiciani. Quest'ultima si cimenterà in un live painting sulle note di Sauron Martinelli, Lorenzo Mengoni e DJ Joelson, il tutto nella splendida cornice del Parco Ranghiasci. Il 20 agosto è la natura protagonista, in calendario l'escursione lungo il sentiero 251 che alterna sentieri panoramici, vallate e boschi incontaminati, pareti rocciosi, monumenti e scorci medievali. Al termine del giro guidato dal CAI, lo spettacolo Corde Rosa, trame di donne in vetta, dell'associazione UAU, preceduto dal gruppo canto CAD Il Passo di Ulisse, CSM Alto Chiascio. La location sarà quella di Parco Ranghiasci. Il 21 agosto il quartiere di San Martino sarà protagonista di un esperimento che unisce poesia e ospitalità. Se i poeti condurranno i visitatori per vicoli e stradine, verso piccoli cortili, ingressi di grandi palazzi, negozi e androni, un modo diverso di entrare in contatto con una parte antica e popolare di Gubbio. Tale esperimento in serata culminerà nella performance vocale Voci, progettata e realizzata dall'associazione Umbria in Voce, alle ore 22 a Parco Ranghiasci. Il 22 agosto le iniziative DOC sono dedicate ai più piccoli, con un pomeriggio di letture, creazioni, disegni e racconti. Il 23 invece Spirit Experience, viaggio alla scoperta del gin e degli infusi, farà divertire i più grandi con degustazioni su prenotazione. Il 24 spazio alla riflessione con lo yoga nel parco in mattinata e cinema all'aperto in serata con la proiezione dei 400 colpi di Truffaut al Chiostro di San Francesco. Il 25 si vola verso la conclusione del festival con il primo grande concerto dei Sacromad in Piazza Grande, ad ingresso gratuito. Il 26 la voce di Mario Biondi scalderà il pubblico con il Romantic Tour, mentre per il 27 è atteso, soprattutto dai più giovani, un elettrizzante e travolgente Achille Lauro. A chiudere come ogni anno il DOC, la cena di domenica 28 sotto gli arconi, su prenotazione in collaborazione con l'Università dei Muratori, Associazione Host e Gubbio Food Experience, l'Accademia della Cucina e AIS. Lo spettacolo è servito.